La porpora trombotica trombocitopenica acquisita, indicata più semplicemente anche con la sigla ATTP, è una patologia ematologica rara nella quale il fattore tempo è cruciale. Si è parlato di questa patologia qui a Milano dove è in corso il 51esimo congresso nazionale della società italiana di ematologia e noi abbiamo colto questa occasione per appunto fare un po' al punto su questa malattia con un'esperta, la dottoressa Alessandra Borchellini dell'ospedale Molinette di Torino. Dottoressa ci spieghi innanzitutto che cos'è la ATTP, quante persone colpisce in Italia e qual è il quadro clinico con cui si manifesta questa malattia? Dunque la malattia, l'ATTP è l'acronimo per porpora trombotica trombocitopenica, si intende una malattia rara, colpisce più o meno 6-10 persone per milione di abitanti ed è caratterizzata dalla comparsa di un anticorpo che annulla l'effetto di una proteina che normalmente aiuta la degradazione dei multimedi del Villebrand e che comunque in questo modo riduce il rischio di formazione di piccoli trombi o di aggregati di Villebrand e di piastrine all'interno dei vasi e quindi l'effetto finale è un consumo di piastrine, un'anemia legata a queste alterazioni dei piccoli vasi, quindi un'anemia prevalentemente emolitica e la complicanza trombotica che è l'evento finale più temibile della malattia stessa, quindi eventi trombotici che possono interessare tutti i circoli ma prevalentemente i più gravi, il circolo cerebrale e il circolo cardiaco. Stiamo parlando di una malattia rara, quindi diciamo al di là della rarità, quali sono le sfide legate al riconoscimento di questa malattia e quindi alla sua diagnosi? La prima sfida è sicuramente appunto la rarità che rende quindi difficile la diagnosi, il riconoscimento e la diffusione della conoscenza in tutti gli ambiti, essendo una malattia che appunto abbiamo capito che si può manifestare con manifestazioni prevalentemente ematologiche ma anche cardiologiche o neurologiche, può essere misconosciuta o comunque confusa e magari c'è un prese in carico inizialmente da un consulente che magari non ha la conoscenza di tutte le altre componenti. Quindi l'importanza è innanzitutto appunto la conoscenza diffusa sul territorio e in tutti gli ambiti e poi la diagnosi precoce che si avvale sì di uno score predittivo diagnostico ma poi di un test importantissimo per la definizione diagnostica che è un test di laboratorio che permette veramente di discriminare quelli che possono essere i casi sospetti dai veri casi e quindi fondamentalmente la sfida è un po' creare una rete di competenze di persone a conoscenza della malattia e che sappiano affrontarla e che coinvolge molte figure professionali l'ematologo, il medico del trasfusionale, il neurologo, il cardiologo, il farmacista perché poi i farmaci vanno comunque in qualche modo indirizzati e poi appunto tutte le competenze che possono rientrare e poi dall'altro il laboratorio che è fondamentale per la diagnosi. Dottoressa ma quali sono, se esistono ovviamente, dei segnali a cui il clinico deve porre attenzione per arrivare alla diagnosi di questa malattia? I sintomi sono estremamente variabili e anche di intensità molto variabile per cui si passa da manifestazioni che sono prettamente di interesse ematologico quindi la comparsa è prevalentemente ematologica, quindi l'anemia, la piastinopenia altre volte sono sintomi addirittura ancora più sfumati, cioè il paziente arriva per un'astenia generalizzata altre volte i sintomi invece sono molto più severi e quindi magari abbiamo l'evento ischemico cerebrale l'evento cardiaco o anche il danno ad altri organi vitali quindi l'estrema variabilità di presentazione è un altro delle sfide perché comunque appunto l'attenzione può essere attratta da un aspetto piuttosto che dall'altro sviando dalla diagnosi principale. Ecco dottoressa, ma una volta arrivati alla diagnosi, quanto è urgente impostare subito un trattamento? Qual è la sua esperienza su questo fronte? Allora, l'avvio subito della terapia è fondamentale per prevenire proprio gli eventi o le complicanze che abbiamo detto prima più temibili e più gravi quindi gli eventi vascolari cerebrali, cardiaci eccetera e quindi il danno d'organo. Chiaramente per fare questo, come dicevo già prima un aspetto fondamentale è la sensibilizzazione dei colleghi che accettano il paziente in prima battuta e molto spesso il medico della medicina d'urgenza del pronto soccorso e quindi da lì la possibilità di avere dei contatti facili e veloci con gli specialisti e con lo specialista ematologo che molto spesso o internista che molto spesso è il medico che prende poi in carico il paziente. È cruciale il tempo proprio perché deve avviarsi tutta una macchina e una serie di competenze che se sono già in qualche modo sensibilizzate, preallertate è una macchina che si muove relativamente velocemente e se no ci mette tanto tempo e questa macchina come dicevo prima sono coinvolti tante figure quindi anche il farmacista, il medico del trasfusionale a volte il paziente ha bisogno di posizionare un coassiale quindi anche il medico interventista che comunque deve posizionare l'accesso venoso quindi è veramente un sistema che deve muoversi in poco tempo per raggiungere un obiettivo che è quello di salvare la vita al paziente. Dottoressa, al di là della tempestività di intervento di cui abbiamo appena parlato quali sono gli altri elementi fondamentali nella gestione del paziente con ATTP sia diciamo durante l'urgenza sia poi durante il follow up? Allora un elemento fondamentale come dicevamo prima è l'identificazione, la diagnosi cioè dopo il sospetto clinico quindi magari l'utilizzo dello score, del plasmiscore che ci aiuta attraverso dei parametri prevalentemente clinici in realtà il dato poi di rimente è l'ADAMS13 cioè la valutazione della concentrazione dell'enzima nel sangue è fondamentale e diagnostico permette di discriminare le forme dubbie che anche nel plasmiscore diciamo preliminare possono essere appunto venire suggestive per malattia dal plasmiscore preliminare alle forme veramente da trattare quindi in quell'ottica il laboratorio è fondamentale è fondamentale nella parte iniziale perché ci permette appunto di identificare chi trattare e come trattarlo diventa fondamentale però anche nel follow up quindi nella fase successiva dopo quando il paziente ha raggiunto la remissione la risposta clinica e quindi possiamo dimettere dall'ospedale e continuare a monitorarlo ambulatorialmente perché comunque la terapia che inizia durante il ricovero e che prevede l'utilizzo attualmente nella maggior parte dei casi del caplacizumab deve essere sospeso nel momento adeguato per la vita del paziente quindi deve essere sospeso quando l'attività di ADAMS raggiunge dei valori adeguati sopra il 10 meglio sopra il 20 e quindi comunque è importante che il laboratorio ci stia dietro per riuscire a seguire bene il paziente e sospendere la terapia nel momento giusto grazie a tutti